Perché riteniamo che questa novina sia la morte della politica. La politica una volta era fatta in maniera chiara, dove si deleniava chi doveva amministrare perché c'era il consenso della gente. Qui viene tolto un consigliere, un assessore che aveva avuto dei consensi da parte del cittadino e il sindaco l'aveva messa accanto a lui perché aveva visto che la gente la gradiva. Sostituisce la signora Garamella con un signore anonimo che era stato nominato come consulente solo perché vicino ad ambienti politici che sono vicini agli amici del sindaco. Io ritengo che bisogna cambiare rotta. Questa amministrazione naviga a vista. Di tutto quello che aveva detto che doveva fare in campagna elettorale non è stato fatto nulla. Parliamo di depuratore, non sappiamo che fine abbia fatto. Parliamo della piazza dove c'è una situazione molto grave e dove la gente si lamenta perché non vengono rispettati i parametri che andrebbero rispettati e non vengono fatte. Parliamo di un parco giochi che è chiuso. Parliamo dei servizi sociali in uno stato di abbandono. Il paese dove si parla di raccolta differenziata dove si dice che sono arrivati ad alti livelli invece non è così. Cioè abbiamo allo sbando. Dov'è il sindaco della gente? Pochi mesi fa, parliamo di sei mesi fa, si parlava che si dovevano garantire le persone, cioè la gente comune si dovevano garantire tutto. Tutti. Invece non si sta garantendo nessuno. Si sta garantendo soltanto una politica di palazzo, una politica dettata da diktat palermitani del PD che gestiscono il comune di Terrasini. Siamo stanchi. Dobbiamo cambiare il rotta. Noi in consiglio comunale l'abbiamo detto in tutte le lingue e in tutte le salse. Ma evidentemente il sindaco preferisce garantire altre persone che garantire i consiglieri comunali eletti liberamente dal cittadino. Ora basta. Faccio un appello, signor sindaco. Cambi il rotta perché altrimenti andiamo allo sfascio. Già siamo sulla buona strada. Aggiusti il tiro perché altrimenti affondiamo.